Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Te la scordi? Venduto a satana! Tu sei venduto a satana! Tu devi ringraziare la diva del pubo che sta facendo business sulla tua faccia Ok, sentiamo Andrea, poi chiudiamo questa tensone Posso parlare? Posso parlare? Posso parlare? Sei una merda! Tu sei una merda! Posso parlare? Prego, prego Andrea, prego In realtà quando mi hanno chiuso youtube sono stato malissimo Per fare white party così ti ho porto Non mai hai detto che era un white party Simone eh? No, altro fax? Altro fax? Eh lo so, ho notizie continue dalla Germania Ma perché ogni tanto deve andare in cucina che deve togliere i cosi no? Tre mesi Allora, chi c'era? Ah no No, è quando arriva il fax Ok, il fax è arrivato, è un fax colombiano Ok, tralasciamo i dettagli Comunque vediamo questa Grazie, perché fu io a cercarlo Giuseppe Fu io a cercarlo Giuseppe Il nuovo Andrea Di Pre Te lo ripeto un'altra volta Il nuovo Andrea Di Pre Ce l'hai su Twitch Ed è Simone Ed è Simone Ed è Simone Detto il burro Io lo chiamo burro Ricordiamolo eh Facciamo anche una clip di questa cosa No, Simone 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 Vabbè c'era della Sì, della polvere Filippo Leouard Leonardo da Vinci Michelangelo eccetera Però Non so, secondo me Il fax sta facendo un effetto un po' No, no Il fax è un cazzo Tu lo sai che mi hai fatto chiudere l'account Instagram con le tue conoscenze? Sono sette anni che tu mi fai chiudere gli account e che mi ricatti con gli account che compi atti di bullismo, che compi atti che usi i network Non ridere Dio Porco Non ridere Dio Porco Dovete essere già in carcere No Che cazzo stai dicendo? Non ti vergogni Dio Porco Aspetta Andrea sentiamo un attimo la versione di Alicia Alicia Senti, ascolta Vuoi essere un gran signore elegante Devi chiedere scusa alla diva del tubo Allora Allora Attenzione Già con le scuse l'altra volta Ad ascoltare te Porco Dio Ad andare a Cimiliano di Terascina che le scuse a Paniccia Abbiamo una causa insieme adesso Porco Dio Lo sai questo vero? Il processo Chi se ne frega Ah chi se ne frega Dio Porco Sono soldi Ma su Andiamo dentro di nuovo insieme Sai cos'è la dignità? Tu sai cos'è la dignità? Sai cos'è la dignità? Sai cos'è il carcere? Sai cos'è il carcere? Sai cos'è il carcere Dio Porco? Sai cos'è il carcere Dio Porco? Sai cos'è il carcere? Lo sai cosa vuoi dire? Vedere metti i tereschi luni in doccia Dio Porco Che mi dicono Perché non entri? E Dio Porco Anche no Dio Porco Anche no Dio Porco Sai cos'è? Il carcere sa cos'è? Vito alloggio è Dai Allora Ho salutato Io non mi sono preoccupato di tutti Cioè mi sono preoccupato di tutti gli ospiti Ma quando In realtà la La preoccupazione più grande eri tu Ho salutato Ho salutato Cioè ma non Almeno cioè Ma Ma almeno oggi Non No Non rincarare la dose Ho salutato Ho salutato le persone Eh ho capito Cerchiamo di Moderare i saluti E cambiare magari Eh Siamo mammiferi E quindi Come tanti mammiferi Siamo promiscui Da questo punto di vista Poi Si può essere fedeli Se lo si fa per scelta Se si sceglie E si va un po' contro L'istinto Perché l'istinto Soprattutto del maschio Spinge ad accoppiarsi Con più donne Insomma Per le donne è un po' diverso Ad esempio Ragazzi Fa tremare chiunque Lei può far chiudere il profilo Anche alla Ferraghi se vuole Ok Lei può fare quel cazzo che vuole Ha un potere immenso Io ovviamente Allora Dice una volta per tutti Come cazzo campi Eh un attimo No Arrivo bro Arrivo Sono un capetto Arrivo 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 Ok Paradossalmente Per me Lo sai bene questo Ok Quindi Però insomma Il certo Tanto Mi chiedo scusa Perché Da ex Da ex Da quasi presidente Direzione del Fitturato Adice Dovevo salutare Per il volto loro di casa Mi chiedo scusa Che è come il sindaco Devo salutare Altresì Altresì Un grandissimo alfiere E Colui che è riuscito ad entrare Del bunker di Preista Dei Narcos Senza dire niente Lui è entrato Lui è entrato dai veri Narcos Per dirti non lo so E E Una volta volevo darti fuoco alla macchina Ma la cosa Vabbè non esageriamo Piuttosto quello capito Piuttosto quello No è vero Però Però Oh white party o no stasera ragazzi White party o no Certo Primo 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 No no Un attimo Un attimo Un attimo Allora Adesso vi dico della danza come dicevo prima Ok Allora Posso dire solo questo poi basta Poi non parlo più Posso dirlo? Certo dipende Allora ragazzi Ascolta liscia Ero in carcere Ero in carcere Non conoscevo nessuno Chi cazzo vuoi? Vuoi droga? Cosa vuoi? Io? Io? No Simone 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 Vuoi droga? No Vuoi droga? Se voglio droga? Sì No dimmi gli affari che ci sono stati tra te e Val Pessurai Che è stato di cazzo Dai Vattene a fare il culo Simone Vattene a fare il culo Simone Vattene a fare il culo Allora aspetta aspetta Ok Sorrisone galattico Allora sentiamo un attimo liscia Sentiamo un attimo liscia cosa vuoi dire E tu dimmi cosa vuoi da me Cosa vuoi? Cosa vuoi? No 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 scusate Non volevo Non mi intrometto No Bianca Cioè un discorsone unico per poi uscire con la pirlata Scusate 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 Sì Stai dicendo la comunità degli obesi No dai No non si permetterebbe mai No No per dire No no David tu non fai parte di nessuna comunità di niente Tu sei un ragazzo tuo Cioè tu E io Siamo tutti Ciao Chiara Immaginavo Auguri Paul Fiore Auguri Non so perché sto facendo gli auguri a chi chiede gli auguri Però vabbè Ciao Elisa È un quadro È un quadro È un quadro È un quadro che voglio vendere È un quadro che voglio vendere È un quadro che voglio vendere Ok Grazie Allora vedo una chat gravida di personaggi che mi è stato molto a cuore Che mi è stato molto a cuore Non faccio il cavaliere questa volta E Eh Il cavaliere perché Eh Mi prodonerà la riva del tubo Mi prodonerà Non faccio il cavaliere Ma Ma Porco Dio fratello Porco Dio fratello Giuseppe Porco Dio bono Dio cane Sono anni che ti aspetto porco Dio Che ti ho cercato le meglio fighe del nord Italia Dei paesi baltici porco Dio Porco Dio fratello Non puoi far così porco Dio Ok Perché sei letteratura Perché sei arte Fratello Io dico lo scopertissimo Sei arte Tu la tua commedia L'hai già scritta Dio porco Con il monella Non cercare altre cose Dio porco Vieni a Prada che ti faccio scoprare tutto Porco Dio Giuseppe se vuoi Usi i farmaci Usi i farmaci Usi i farmaci Il mio uccello sai come è composto Dalla melanzana Dalla mozzarella Il tuo Per fare Per avere un'erezione Come si chiamano i farmaci Viagra Viagra Il Viagra Lei fa affari Fa business con te Tu che cazzo di uomo sei Dovevamo condurre La notizia Giuseppe Vuoi vivere con me Ma lo sai chi è Il nuovo Andrea di Pre Del 2022 O del 2023 Nooo Sì più tu E il burro C'è? No 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 nooo итp No 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 Cazzo no 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 Ci servisci No 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 novere No 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 L'ambdia No 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 Santissimo caso E' vero E' vero La prima volta il live da green va Usserò questo spazio Mentre succede questa cosa Per dire che rubino è l'essere più potente E vabbè È passato Oh C'è pure Vale La c'è Eccola Guardate cose cannabiate Applaudio